Due edizioni che hanno colpito nel segno e quest'anno persino di più. La seiore della reggia e con essa la maratona, la mezza maratona squadra e la 20 km a staffetta, ha saputo emozionare, complice la bellezza della reggia vanvitelliana di Caserta, l'organizzazione all'altezza della situazione, la più che buona partecipazione e una giornata di sole, il che non guasta mai. Con fronti su tante distanze diverse, tutti adrenalinici, nonostante la fatica, soprattutto di chi ha corso per 360 minuti consecutivi. Per la cronaca, vittoria della seiore è andata Matteo Nocera, Napoli Nord Marathon e Fabiola Desiderio. La 42 km invece ha visto primeggiare Francesco Bassano della San Giovanni Appiro, due ore e 51 minuti per lui e Giulia Ranzuglia. La mezza maratona squadra è andata al team Gruppo Sportivo Garibaldi di Caserta, mentre la 20 km a staffetta al Team International Security Service. Non è facile per niente organizzare una gara così lunga ed articolata. Si combatte, è il caso di dirlo, contro tutto e tutti. Ecco perché i complimenti a chi ci riesce, a chi ci crede, vanno fatti ancora di più.